La Cina post controllo molto di successo del Covid-19 che l'ha fatta uscire prima e meglio degli altri paesi dalla crisi Covid-19, tanto che già nel terzo trimestre del 2020 avevano recuperato i livelli di PIL di fine 2019, uscita bene da questa fase di crisi Covid-19 ha adottato politiche monetarie e fiscali restrittive. Il motivo per cui ha fatto questa cosa non è sorprendente, la Cina ha un obiettivo di stabilità finanziaria, un obiettivo molto forte e la loro percezione che non posso dire fosse sbagliata, che a fronte di un miglioramento del ciclo economico negli altri paesi, se la Cina avesse continuato a tenere politiche monetarie e fiscali espansive, questo avrebbe rischiato una destabilizzazione sia dei loro mercati finanziari sia della loro economia che sappiamo è molto levereggiata. Quindi a tutti gli effetti la Cina ha scelto un'azione di policy in controtendenza rispetto ai paesi sviluppati, mentre i paesi sviluppati facevano easing monetario e fiscale, la Cina faceva tightening monetario e fiscale. Questo è perfettamente comprensibile e spiega a mio avviso sia la buona performance dei mercati obbligazionari sia una parte della cattiva performance dei mercati azionari, una parte minima perché una parte ciclica. Il secondo tema è questo tema su perché i mercati obbligazionari facevano bene, scusatemi, questa è una cosa che forse va spiegata, nel senso che un restringimento fiscale monetario a tutti gli effetti dal punto di vista teorico fa sì che non generi tantissima pressione al rialzo sui tassi di interesse. Quando tu hai restringimento monetario con allentamento fiscale che i tassi salgono di tanto, quando tu hai restringimento monetario e fiscale alla fine l'impatto sui tassi di interesse è abbastanza limitato, che salgono i tassi di policy ma di fatto il mercato comincia a prezzare un rallentamento ciclico. Ora, questo è il tema ciclico, continua il rallentamento cinese sì, abbiamo visto oggi dati PMI usciti in Cina, sono usciti piuttosto deboli, ma dal punto di vista ciclico l'impressione è che la Cina abbia fatto un pivot importante poco più di un mese fa, che questo pivot importante passa da un restringimento fiscale monetario a un allentamento fiscale monetario, cioè la Cina semplicemente credo sia giunta alla conclusione che la restrizione è stata eccessiva e quindi sono pronti e disponibili a fare allentamento fiscale e monetario da qui. Quindi questa componente passa dall'essere negativa all'essere neutrale e leggermente positiva. La cosa però che ha spaventato di più i mercati non è tanto, non è solo questo, queste sono le cose di cui noi tipicamente ci occupiamo, cioè l'impatto di policy sull'economia e sui mercati. La cosa che ha spaventato di più i mercati invece è un'altra ed è l'azione contemporanea che è stata presa in Cina, che ha degli obiettivi di policy che sono più complessi da leggere e che hanno a che fare con quello che la Cina chiama la creazione di common prosperity, cioè di una prosperità comune. Cosa significa questa common prosperity? Significa, dal nostro avviso, che alcuni, come dire, degli aumenti nella distribuzione asimmetrica del reddito che ci sono stati in Cina nel corso degli ultimi anni vengono combattuti. E dov'è che si concentrano questi aumenti alla distribuzione del reddito? Sostanzialmente nel settore tecnologico e l'abbiamo visto anche nel settore dell'istruzione. No, dove la Cina da sera alla mattina è intervenuta di fatto praticamente chiudendo un settore che è quello dell'istruzione privata. Dove si ferma questa cosa? Questo è a tutti gli effetti un significativo restringimento regolatorio che avviene in tempi che non sono quelli tipicamente a cui siamo abituati nei paesi occidentali, cioè che passano attraverso lunghi dibattiti politici, misure che vengono implementate lungo orizzonti temporali pluriannali. In Cina avviene sostanzialmente nel giro di poche settimane, cioè una cosa come quella che è successa in Cina, cioè di fatto mettere al bando i sistemi, mettere al bando l'educazione privata è qualcosa che è molto difficile da fare nei paesi occidentali. E' qui che i mercati faticano a comprendere dove si ferma questo approccio. Questo approccio non è del tutto diverso da quello che sta avvenendo nei paesi industrializzati, cioè anche nei paesi industrializzati c'è una tensione verso una riduzione delle disuguaglianze sociali, ma questo avviene lungo orizzonti che sono pluriannali e quindi i mercati sono molto più insensibili. Quello che succede in Cina è molto rapido, i mercati faticano ad adeguarsi. Quindi direi, dal punto di vista ciclico, secondo me da Cina qui si può comprare, il motivo per cui, perché vedo un restringimento monetario fiscale che si muove dal restringimento all'allentamento, dal punto di vista strutturale vorrei aspettare per capire dove e se questo movimento, che a tutti gli effetti è un movimento regolatorio, si ferma. E qui non siamo ancora sicuri di dove si fermi. Quindi il motivo per cui la Cina ha sottoperformato in parte, come dire, ciclico, ma questo l'avevamo visto, la parte strutturale non l'ha vista nessuno, neanche noi, cioè non ci aspettavamo questo tipo di restringimento regolatorio ed è il motivo per cui il mercato oggi, credo, fatichi a trovare un equilibrio, proprio perché la parte di restringimento regolatorio è uscita in modo abbastanza improvviso e soprattutto si fatica, mancando un dibattito politico completo in Cina, a capire dove potrebbe fermarsi. Questo è il punto. Quindi dovremmo avere delle indicazioni chiare da parte delle autorità politiche cinesi che però per il momento non ci sono state, mentre abbiamo avuto l'impressione chiara che dal punto di vista ciclico la politica monetaria e fiscale si muoverà da restrittiva a neutrale, ma secondo me diventerà espansiva, sul secondo tema, sul tema regolatorio, non abbiamo avuto indicazioni chiare e questo è un tema piuttosto rilevante. Quindi credo che, quindi riassumendo dei due elementi che hanno pesato negativamente, uno da negativo diventa positivo, l'altro che nessuno aveva visto, che però è stato significativamente negativo, per il momento secondo me in assenza di ulteriori informazioni dobbiamo continuare a ritenere che sia negativo. La conclusione è che continuiamo a vedere fixed income supportato in Cina sull'equity al margine secondo me è meglio, ma prima di prendere una posizione di sovrappeso deciso vorrei aspettare di capire dove si ferma questo impulso regolatorio che è piuttosto violento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.